Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Campania sbloccando il finanziamento per l'aviosuperficie di Teggiano. Nuovo capitolo nella lunghissima storia di questa infrastruttura, i cui lavori iniziarono nel 1997 e sembravano dover diventare realtà di lì a breve. Invece, dopo 22 anni, l'opera resta ancora un'incompiuta. Buone notizie però arrivano dalla querella amministrativa, nata dopo che la Regione aveva bloccato il finanziamento e che è stata vinta definitivamente dal Comune di Teggiano. Palazzo Santa Lucia, infatti, aveva fermato lo stanziamento ritenendo che il Comune, per il completamento dei lavori, avrebbe dovuto presentare una valutazione di impatto ambientale. Negli anni precedenti c'era già stata la pronuncia favorevole al Comune da parte del Tar. Ora il Consiglio di Stato ha confermato quella sentenza, ritenendo che la via non fosse necessaria, in quanto l'opera non è un aeroporto. Pronti dunque a ripartire, ma gli intoppi non sono finiti, perché questa infrastruttura, sorta sotto una cattiva stella, deve fare i conti anche con il fallimento della ditta arrivata seconda nella gara d'appalto per il completamento dei lavori. Una dichiarazione di fallimento che ha seguito quella già presentata nel 2018 dalla ditta classificatasi prima. Eppure i lavori avrebbero dovuto concludersi entro il 2020, ma proprio quando si stava risolvendo la vicenda dell'impresa vincitrice, si è aggiunto quest'ulteriore ostacolo. Lo sblocco del finanziamento ora fa ben sperare, ma si devono attendere anche i tempi necessari per l'affidamento dell'opera ad una terza ditta. Questa vicenda ha finito per impedire anche l'allungamento della pista da 950 metri a 1440 metri, intervento che doveva essere un'occasione per un utilizzo più ampio dell'aviosuperficie.